stiamo in due a occuparci degli appartamenti che canali vuoi canale 5 tale 1 e rete 4 perché guardi il segreto sicuro ci saranno io quando viene mia socia il mio suocero guarda il segreto perché su canale 5 fanno vedere il segreto ma va ancora sto segreto ma non è ancora finito non finisce mai come più di come più di fuori più di fuori più di fuori più rifullo perfetto ma c'è una vita che va non finisce più hai visto che la katia c'è uno spazio qua tra i denti io dobbiamo tirare via questo dente gli mettiamo un impianto un molare al posto dell'incisivo